I centri centrali abbiamo Vianello e la Mondaini, ma bisogna stabilire che cosa faranno. Ehm, chi? Ah, Mondaini e Vianello? Eh già. Per loro non c'è proprio problema, guarda, scrivo giù, butto giù una delle loro solite litigate. Intanto loro litigano sempre. Ma cosa vuole lei? Vada, vada, vada. Io faccio vestire lei in una maniera buffa e spiritosa, lui la guarda contrariato e litigano. Ma che... 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 Sandrina, ma che fai, sei impazzita, ma... Fermi tutti, no, no, è impazzita, ma cosa fai, ma non ti vergogni, ma guarda come si è combinata. Perché scusa, cosa c'è che non ti piace, cos'è che non vanno le mie gambe? Non ti piacciono le lustrine, non ti piacciono le piume, cosa c'è che non vanno? Ma qua le piumine, le lustrine, le gambette, ragazzi, qui... Tu non hai più il centro della misura, Sandro, tu non hai più il centro della misura, non capisci più niente, capito? No, guarda, Raimondo, se mai sei te che non capisci niente. Adesso va di moda il revival, no? Beh, io mi vesto come adesso Brad degli anni 50, no? Ah, ecco, finalmente hai fatto, hai preso una bella decisione, insomma, sei deciso, tu brava, hai detto... Scusa, Raimondo, decisa, a fare che? A confessare la sua verità, 50 anni. Comunque, guarda, Sandrina, brava, hai fatto bene, ma a noi comunque non interessa che vuoi ci fare gli ospiti in questa trasmissione, non è importanza, non abbiamo bisogno, queste cose... Ma perché? L'ospite lo fanno tutti. E noi no, noi, noi no, noi no, noi no, noi no, noi no. No. Ma perché no? Ma perché non ci conviene inflazionare, per farci vedere troppo, so, ovviamente, un'idea per la prossima trasmissione, un titolo bellissimo, di nuovo, nuovamente, tante, tante scuse, capisci, grandi idee, novità... Che carino, qual è la novità? La novità sarà che... che tu non ci sarai, Sandra, tu non ci sarai, capito, Sandra? La trasmissione ha fatto tutta io, tutto da sola, hai capito? Che città, sa, per chi ha le mie ragioni. Proviamo su me, proviamo su me, Sandra, proviamo su me, proviamo su me. E per il finale? Che abbiamo per il finale? Dunque, per il finale abbiamo Paola Tedesco, che credo canti batti cuore. Ah, giusto, io non l'ho mai sentita cantare altro. Sì. E come la inquadreresti? Beh, nel solito modo, un grande quadrifoglio, lei che c'è fuori con la testina e... Batti cuore, batti cuore, carina, sì, batti cuore. Amore, stamattina ti ho svegliato, ed ero innamorata più che mai. Sono assorta che eri un po' arrabbiato, come da troppo tempo ti succede ormai, con meno e ridi mai. Tu ho di batti cuore, e in te qualcosa cambierà. Batti cuore, il mondo ti sorriderà. Batti un colpo alla fortuna, te lo vuoi, ma ricorda la fortuna, siamo noi. Baci cuore, baci cuore, quel che conta fa l'amore Baci cuore, non fermarti mai